Allora, Omar, ho detto al tuo corrispettivo qui che probabilmente si aspettava di fare questi tre punti, poi questo rigore, beh, portano a casa un punticero. È stata una bella partita, perché dall'alto poi due squadre messe bene, un po' sembrano una scacchiera proprio. Che cosa è mancato? Ho visto che ti sei arrabbiato parecchio anche. Beh, sei ancora un po'... Sì, diciamo che facciamo degli errori che non dobbiamo fare, anche su aspetti tecnici molto semplici, che poi ci compromettono allo sviluppo dell'azione, o meglio una ripartenza avversaria. Quindi ho detto proprio all'inizio della partita ai ragazzi di fare attenzione a queste cose qui, perché loro sono una squadra che è attendista, che poi riparte a 200 all'ora, hanno qualità davanti. Quindi noi dovevamo sbagliare il meno possibile per non permettere questo. In alcune occasioni abbiamo sbagliato troppo, poi quando abbiamo il possesso noi, effettivamente anche sviluppi importanti, sbagliati per un controllo errato, che poi puoi compromettere un'azione magari importante. Esposito ha detto che è difficile giocare contro questa Eclisse, perché giocate bene, perché avete questo modo di fare, quindi anche lui ha dovuto inventare qualcosa. È chiaro che poi, da come ti conosco, oramai lascia un po' l'amaro in bocca. Sì, diciamo che anche noi soffriamo molto il Vittorio-Verneto, perché quando troviamo spazi chiusi e poi loro hanno qualità davanti, sono molto ben organizzati, ci mettono in difficoltà. Sì, a noi in questo momento qui ci manca una vittoria per riuscire a sbloccarci, ci manca un po' davanti, trovare con facilità magari qualche gol in più. E questo è chiaro che carica un po' di tensione la partita, poi si va sotto, momento anche dove stavamo giocando meglio noi. Poi gli episodi chiaramente condizionano, ci stava un rigore al primo tempo, secondo me, dopo lo rivedrò, ma secondo me è importante, però secondo me non dobbiamo appenderci a quello né da una parte o dall'altra. E' stata una gran bella partita, dobbiamo trovare più presto i tre punti. I ragazzi comunque hanno dato tutto, io non posso dire niente da questo punto di vista. Ci manca proprio il morale di una vittoria per fare un scalino sopra. Come hai detto te, mi ha impressionato, non facciamo i nomi dei singoli, però Sibiglia oggi un muro, una diga. Sibiglia ha fatto molto bene, chiaramente lì in mezzo per noi è molto importante, ma ha fatto bene anche Netto, secondo me lì in mezzo, ma abbiamo fatto bene tutti. Pecchiamo su errori banali, di forzature, di controlli errati anche qui sull'esterno il secondo tempo con opportunità importanti poi di sviluppo. Probabilmente manca un po' di serenità per che i risultati ti portano per far tutto al meglio. Ci rivediamo ancora la settimana prossima, perché siamo ancora qui ormai, ci siamo abituati, giochiamo più qua che fuori, potrebbe essere anche la volta buona. Speriamo dai, speriamo, noi ci lavoriamo. Grazie a Domar Moschetta, tecnico dell'Eclise Carini-Pievigina. Grazie a Domar Moschetta.